Questa è la nuova notizia gente, il Giappone che fa la storia atterrando sulla luna. In Veneto si dice quanto siete occhi, l'occo è il maschio delle ocche, ma in Veneto significa esattamente sciocco, stupido, tonto. Ma il Giappone è lo stato sovrano della produzione delle fotocamere, cosa ci aspettiamo da un evento del genere? Dovrebbero festeggiare con immagini ad alta definizione per un evento di questa portata, anche per arregistrare storicamente una cosa del genere. Ma che presa per i fondelli, gentile signora! Voglio fare una piccola domanda, cos'è questo? Ci state mostrando questo come la prova che siete atterrati sulla luna? Assolutamente no! Pensavo che fosse l'India la nazione più incompetente, ma secondo voi, sanno cosa stanno facendo? Se stanno veramente prendendo cura delle loro realizzazioni? No, stanno solo prendendo per i fondelli le pecore annichidite. Questo è quello che mostrano alla gente, quello che vedono dalla stanza di controllo? E i dati? Wow! Questo è veramente pietoso, gente. Secondo voi lo stanno facendo di proposito? Perché è veramente imbarazzante se sono riusciti a far credere alle persone normali di essere normali se pensano si tratti di realtà, quello che mostrano. Se esistono persone che credono a questo, allora significa che sono loro il problema, queste persone. Credere ad un allunaggio senza nemmeno un filmato, ragazzi, è oltremodo pauroso. Ma tanto ormai le pecorelle credono a qualsiasi cosa. Basta solo che lo dicano le agenzie di informazione e che poi le televisioni lo rimbalzino sui loro media. Peccato che sia solo disinformazione.